Che bello che siete! Allora ragazzi, io vado perché per me è venuta a Milano con alcuni dei miei amici qua, è veramente emozionante prima ero lì che... me lo stanno facendo addosso! Però grazie mille, è stato bellissimo spero vi siete divertiti vi è piaciuto prima di tutto? Sì! Allora, noi siamo contentissimi io e i casti adesso scenderemo giù perché vorremmo dedicare un attimo di attenzione a voi e ai vicini quindi saremo lì per fare le foto tutti quanti grazie mille, grazie che siete venuti ci avete rimposto il cuore, grazie! Grazie! Cri! Ciao! Ci sono tutti! Ci sono tutti!